Come to the waters Amen And he who had no money Come Questo lavoro si chiama Le parole nascoste o The Hidden Sayings La base del lavoro del studio sono canzoni tradizionali del studio degli Stati Uniti E infatti queste canzoni tradizionali vengono da Africa Infatti queste canzoni sono molto presenti nel lavoro di Open Programme dall'inizio di esistenza del gruppo Allora più o meno sette anni che stiamo lavorando intorno di questi materiali Nelle canzoni ci sono tanti riferimenti verso i testi del testamento, della Biblia I found them all drunk I did not find anyone among them who hurts And my soul is pain from the children of men Non è veramente uno spettacolo Nel senso che Come dire, nel senso tradizionale del termine E' piuttosto una ricerca vincolata a diversi potenziali Che si possono, diciamo, scoprire Potenziali che appartengono alla parte interiore della persona, dell'attore She will be amazed And she will be king over the all And she will find repose And she will find repose And she will find repose Quindi, per dire spettacolo E' una forma veloce e semplice, semplificata De spiegare che cosa è quello che facciamo Però, come avete visto, il rapporto tra doers, gli attori e gli spettatori O la gente che viene a vederci Gli individui Non è così Non è come nel teatro Di qualche modo Stiamo provando di capire Di giocare con queste convenzioni Perché non è, per esempio Tu hai una compagnia di teatro tradizionale Un grande teatro all'italiana Questo è un'altra cosa Anche a livello, non solamente creativo o estetico Ma anche a livello di funzionamento dell'organizzazione L'organicità del lavoro tra le persone Come to the waters Amen And he who had no money Come E' un'altra cosa Interessori L'agri du tunnel E' un'altra cosa Che ragazzi